ciao a tutti zipponi io sono De Niko e oggi siamo in compagnia di Supjoo e di Fire bella Zuppa Zuppjoo? Come? ahahahah Supjoo Supjoo ho detto superjoo, è anche tarda non riesce a sentirmi nooo uh, ho preso qualcosa no no, ho preso le frecce, ho lasciato le frecce venti frecce io sto, io sto, io sto, io sto scappando di un cane aspetta, dove è Fire? aspetta, fai, fai, ti vengo recuperare, guarda, sono super all'albero ah, ok, 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 ok tira fuori la, tira fuori la spada, vai tira fuori la spada, c'è Gio ahahahah dai, andiamo vai, oh perchè in questa direzione? perchè mi ispira io sto scappando come un talebano, io sto scappando come un talebano in fuga proprio, cioè è la peggior specie lì, lì secondo me c'è qualcosa io devo andare qua dentro che mi serve ci siamo divisi come ci siamo divisi? ok ok, ok, sto correndo ora un'arma, un'arma sei dalla casa? no, io sono dietro di te non c'è nessuno dietro di te ah, eccoci oh, dove siete? ci conviene scappare vieni qua scappa, scappa oh cazzo, tieni una buona pozione di velocità no, di speed, tieni oh, dove siete? io boh, non so, dici oh cristo, dove siete? c'è fai dici le coordinate? o sennò viene lo spawn vedo io sono allo spawn arriviamo ci sono due ci sono in tre qua che si stanno arando però c'è eh, siamo sulla montagna, sulla montagna vicino allo spawn vai, vola piccolo ma sei inizibile un arco un arco ah bella, c'ho dodici prezzo dobbiamo arrivare alla bandiera adesso cadi giù vai, vieni qua, fai lo sniper in cima, cima vai, vai cima lego, lego cima vai, dove sei? ah, si sente la gente che parla a casa mia, gris io non la sento si sente la gente che parla a casa mia? no, io l'ho ok, a posto questa è la mia montagna vattene vai giù mancava dove siete? ho riuscito a venire da Natifo perchè io ho paura mi sento solo dove sei? è quella verde io non la vedo da qua, tu la vedi? è la, è la quella verde allora andiamo da lui oddio, io c'ho paura vedetemi che avete anche del cibo perchè io sto morendo ci siamo rotta in flash certo io non ho un cazzo mi può bastare perfetto oh però scende un po' anche te è bello vieni co 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 vienici incontro però ok ecco vi vedo vi vedo vi vedo vi vedo no è vero che vi c'è una spada 360 360 360 360 ma where are jesus? sono in mezzo al fiume ghiacciato vieni vieni ah è di là il fiume ma tu dopo tutto puoi volare per cui aspetta ero qui aspetta ero qui 360 360 360 ma cosa? 360 eh vado qui 360 360 no vieni 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 qua no lascia mille frecce lascia mille frecce no tieni il mio rotto in flash grazie grazie a parte che sei no l'ho presa comunque eh? come? le rotte in flash di g tieni agli stivali dam 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 non li hai già monello dai non avete una spada eh qua c'è un elmetto per chi serve a me non avete una spada oh eh io ne ho una mano è mia ehm no sto morendo affogato dai mi serve il cibo Gesù che muore affogato no non è vero non è vero sai che faccio il pane ho due panini io mi prego sto ragione ho un panino chi vuole un panino? aspetta che è proprio la scheda Gesù io voglio del cibo io voglio del cibo io c'ho due pani e non li darò a nessuno ma mi serve del cibo ok amico a te io io sto morendo no ragazzo eh grazie me lo mangi proprio davanti ah i panini ehm io direi di fare una cosa ce li ho ancora io e poi fai quando mi vuoi dare i panini appunto oh oh ehm blue fire dimmi guarda mia facciamo a mano libera guarda il pugno di Gesù il pugno power il pugno di seguiamo dai aspetta io c'ho metto migliore perciò dami bravo dami bravissimo oh ragazzi io faccio il buon accesso 3 ahahah una cesta guarda guarda ma c'è la roba per terra 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 nessuno si era accorto che ce l'aveva che puttana che sei ahahah che grazie ahahah no ma io c'è non ce la faccio per io beh piuttosto si uccidete mi vuoi no sto scherzando tisi vieni qua vieni qua vieni qua e ci pensare sto scherzando oh della rotta in flash grazie Gesù oh qua c'era oh ragazzi oh ragazzi ho un pesce no Gesù devi 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 moltiplicare i panni i pesci tieni molti pilota c'è un po' oddio oh ma io mi sono preso il pane il pane mio siamo in sei tre siamo noi ci ha dato sicuro eh non hai detto magari non sono tre contro te ragazzi con me intime tutto possibile vai vola vola vai vola perchè è quello è quello è mezzo è mezzo è mezzo è mezzo è mezzo un po' player vai vai non trovo una singola cassa ragazzi allora sono sono buoni generosi quindi venite qua quindi una per te ok eccomi raga e una per te oi una per te e una per te quindi anche te una per te una per te bisogna condividere nella vita esatto anche e soprattutto i giorni quindi 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 bisogna condividere 360 360 360 360 si eh ma basta raga basta basta se ti è a metà vita cioè va bene un colpo va bene lo scherzo ma va bene esageriamo oh ecco un corpetto finalmente la 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 l'alto lali ma andiamo a ballare sulla chest ballare sulla chest bello aspettate questa chest vuota cioè 360 360 dentro l'acqua sembra un poco di acqua a cioè oddio c'è uno ora c'è uno ora c'è uno ragazzi mi fa il culo mi fa il culo via viso via via anche lo shot, lo shot, via raga, via raga via 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 mi ha tolto un bordello madonna, beh, lei avete lo scontro finale grande l'abbiamo erato no è, è per ora, non posso vederlo, lo scontro finale si può trenti secondi credo deathmatch esatto mi raccomando dovete farlo fuori l'ultimo dovete farlo fuori l'ultimo lo facciamo fuori per te togli un po' di frecce per fare il prosciutto frecce? prosciutto il prosciutto il prosciutto aspetta aspetta guarda guarda io son meglio di gesù guarda 360 spawn al maiale mamma mia ricordo tanto di mettere tutti i like passare le visuali degli altri due fenomeni e godetevi il deathmatch c'era da registrare è pieno di ferro vai 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 no muoio muoio in due dai in due ho quasi finito il parkour vai 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 oh mi sta rando mi sta rando salvat è sei di vita vai 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 no no mi sto buggando mi sto buggando occhio no me lo lanciano GG aspetta aspetta adesso vi uccidete con no ferma 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 360 360 360 vittoria c'è una puttana c'è quindi tutti dislike su video di me io non ho registrato eh sono coioli bene raga per questo video è tutto lasciate un like condividete il video se vi è piaciuto se volete più contenuti iscrivetevi e quindi al prossimo video bella 360 bella externa cioè e alt� ücks